lettori elettrici bentornati sul mio canale io sono xadis5 e questo è un cosa c'è nel mio sacchetto della spesa allora ho preso questo per il mio collega di sala ho preso il galateo della tavola è piccolino costa 7 euro quindi spero che gli piaccia alla fine l'ho scelto io ho preso per me il nostro in gola di Anthony Bordè curarsi quei libri sempre per me mi piace questo inizio deve essere un libro molto divertente e poi il mio collega di cucina ha preso il cucchiaio d'argento che deve essere qualcosa di... cioè alla fine è un'altra pietra è un'altra pietra è un'altra pietra è un'altra pietra è una pietra molto bella poi lo sfoglio il video si può concludere qui quindi ciao Grazie a tutti.